Raccontiamo emozioni, interagiamo con persone e inventiamo contenuti. Oggi la rete permette alla creatività di crescere. Ma c'è anche chi ne ostacola lo sviluppo, sfruttando contenuti illegali. Informati, divertiti e condividi esperienze con opere digitali illegali. Permetterai alla cultura di continuare a fiorire. Il regolamento sul diritto d'autore online è sul sito agicome.it perché le opere digitali sono un valore per tutti. Grazie a tutti.